Eccoci, è entrato in campo la seconda gara della giornata, Virtus Castelfrentano, Ecrai, Sport, una società di Como, questa mattina si è pareggiati 2 a 2 mentre conducevamo per 2 a 1 a una mangiata di minuti dalla fine dell'incontro, un rigore inventato dall'arbitro ci ha castigati. Adesso i nostri ragazzi giocheranno con la maglia ufficiale giallorossa, ecco i nostri 11 titolari. Forse ragazzi, ok, ecco salutano la panchina, Grazie, grazie, grazie.